Siamo tornati a trovare Veronica Fausto alla Midas Travel. Veronica oggi ci parli di una proposta diversa da quella che ci hai raccontato nelle altre interviste. Parliamo di Safari. Cosa ci puoi raccontare? Allora innanzitutto non parliamo di Safari solo riferito all'Africa per piacere. Smettiamo di associare il Safari al Kenya e basta. Benvenga il Kenya, benvengano i suoi parchi che sono straordinari, impeccabili, però sappiate che nel mondo si può fare Safari anche in altri posti e magari vedere ancora più fauna. Allora noi forniamo dei tour che partono dall'aeroporto internazionale, si sale su delle belle jeep con delle guide specialistiche e quindi certificate che vi portano nei parchi naturali che sono per lo più distaccati dalle metropoli ma molto facili da raggiungere. E i parchi nazionali che vanno dalla Colombia fino a su al Guatemala o al Belize sono veramente zone vergini, non toccate dall'uomo e sono ricchissime di biodiversità. biodiversità che può essere fauna ma anche vegetazione. Allora abbiamo delle estensioni incredibili di orchidee per esempio una diversa dall'altra, centinaia di specie ma nello stesso metro di terra io vedo il colibri, vedo la farfalla, vedo l'anfibio e se ho fortuna vedo anche i felini che ovviamente scappano appena vedono il segno dell'uomo, lo sentono da distante e sono molto difficili da avvistare ma si avvistano. Se si va con i dovuti modi e ascoltando le istruzioni di una guida possiamo avvistare i grandi felini dal giaguaro fino a tutte le sottospecie o anche il puma. Allora parliamo di safari fotografico o di avvistamento. C'è chi va con le macchine fotografiche con dei super obiettivi o chi va soltanto col binocolo e sono esperienze straordinarie perché la natura che si trova in America centrale e in Colombia è tra la più selvaggia del pianeta. Abbiamo il più gran numero di specie di uccelli, il più gran numero di specie di anfibi. Si va in un fiume e si vedono gli animali più straordinari dai lamantini alle tartarughe. Veramente appena si esce dalle metropoli, dalle città, si viene sommersi dalla natura e si parla di safari vero e proprio perché si va all'avventura, ci vuole un po' di adattamento fisico, un bel po' di spray anti-zanzara, ma sono delle esperienze straordinarie e sono adatte a tutte le età. Abbiamo parlato di safari su terra ma ci sono dei safari bellissimi anche sott'acqua visto che c'è una barriera corallina che è tra le migliori del mondo. Cosa ci racconti? Per nulla togliere al Mar Rosso, cari Vicentini, spostiamoci sulle barriere coralline straordinarie che abbiamo in America centrale e in Colombia. Perché? Perché in Belize abbiamo la seconda barriera corallina al mondo per astensione, dopo quella australiana e in Colombia abbiamo la terza e stiamo parlando di barriere coralline e di corallo vivo. Sono tutte zone protette, riserve marine incontaminate, ci avviciniamo con delle barche piccole, si spengono i motori, non si disturba l'ambiente, si segue quello che ci dice di fare la guida, si possono fare delle immersioni di mezzagiornata, si possono fare dei tour notturni perché si avvistano pesci ed esseri che non si vedono di giorno e con la luna piena sono delle esperienze straordinarie da fare. È alla portata di tutti i portafogli in effetti perché adesso sempre più sono convenienti i voli di linea che ci collegano a questi paesi. Basta partire da Venezia, si fa scalo a Madrid o ad Amsterdam o a Parigi e si fa uno scalo solo se arriva subito in Colombia o in Costa Rica o in Belize. Quindi diciamo la logistica ha aiutato molto questi paesi visto che fino a poco tempo fa erano poco serviti? Sì, per fortuna abbiamo delle compagnie aeree che stanno sempre più aumentando i voli verso queste destinazioni e sono riconosciute come destinazioni molto importanti. Non per nulla Emirates giusto qualche settimana fa ha stabilito di fare un volo di linea regolarmente che congiunge Dubai a Panama City e questa è solo una conferma che stiamo facendo il giusto, stiamo proponendo delle straordinarie destinazioni. Non parliamo assolutamente di all inclusive perché mi si raddrizzano i capelli appena ne sento parlare. Allora quando si va a fare safari o si va a visitare i parchi marini dell'America centrale o la Colombia si mangia sul posto nei ristoranti tipici, si mangia magari facendo un barbecue sulla spiaggia con la guida ma non andiamo nei villaggi con gli animatori in ambienti chiusi e avulsi da tutto quello che c'è intorno. Io sono contrarissima all'all inclusive che sta danneggiando paesi interi e crea soltanto disoccupazione. Accade che nei paesi che possono essere l'Indonesia, la Tailandia o l'Egitto, gli abitanti del posto non fanno altro che i camerieri, gli aiuto cuochi e i giardinieri. Questo non è aiutare le economie locali, questo è limitare le possibilità di impiego della gente del posto. L'all inclusive spero non attecchisca in questi paesi perché si meritano di meglio. Anzi preferibili sono i piccoli alberghi locali che possono essere posadas o comunque in stile ispanico oppure ecologi costruiti con un bambù speciale che c'è in quei paesi si chiama guadua. È un materiale a costruzione resistentissimo, resistentissimo alle intemperie, alla pioggia per esempio e al tempo. Quindi evitiamo gli all inclusive anche perché sennò tutte queste cose non si vedono e il tuo lavoro è proprio questo, portare la gente laddove non potrebbe arrivare con un all inclusive. Sì io direi facciamo il contrario di quello che fanno i grossi tour operator, sappiate questo e provate ad affidarvi a questi itinerari, tornerete contenti e lo racconterete ai vostri amici e sono sicura che si sposano con i gusti dei vicentini, dei veri viaggiatori insomma.